L'ho invitato a un concerto ad Alassio e lì mentre sentivo la pianista suonare gli ho chiesto un attimino quali i suoi programmi e lei mette che cercava di ampliare un po' il suo repertorio anche con altre esperienze di carattere inutilinguistico. Poi ho messo a pensare, sono venuto a casa, ho ragionato perché non portiamo avanti un progetto di musica e arte, si mettono insieme e comunicano, affondano un po' le loro esperienze. Poi gli ho comunicato, gli ho detto sì, fantastico, mi ha proposto un duo pianistico di Schubert che poi ho fatto ad Albenga e abbiamo visto che la cosa ha avuto una sua resa, ha fatto la piatta di Albenga, San Michele e Tevra, tra piedi, un vero simile. Poi ho fatto uno scenario stupendo, c'era la cattedrale, come come fondale, davanti al tutto il parco, sulle foto, su Facebook, se si vede. Mi lavoravo, devo stare questa cattedrale davanti. Grazie. 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 Grazie.